Sono qui da due anni cinque mesi e in due anni cinque mesi sono l'unica persona in questo building che non ha perso un unico minuto di una sessione di allenamento. Sono l'unica. Anche tu hai perso perché sei stato malato due o tre volte. Per me non ci sono malattie, non ci sono buon umore, malumore. Svegliarmi presto, svegliarmi tardi. Per due anni e mezzo più o meno non ho sbagliato niente neanche un paio di settimane fa dove eri l'unico che lavorava perché erano tutti malati. Tipo un mese fa avevo bisogno di un giorno per una situazione che non devo neanche ovviamente spiegare. Ho spiegato alla proprietà, ho spiegato al direttore al direttore Pinto. Io in un momento così pieno di partite, di viaggi, di allenamenti abbiamo definito che il giorno che entrava bene per me di non stare presente, che era il giorno dopo una partita e una settimana dove si giocava mercoledì e domenica. Sono stati fuori di Roma per quattordici ore, quindici ore. Mi è sempre un po' ridicolo stare qui giustificando questo, però non accetto di nessun modo che la mia professionalità, che la mia dignità, che il mio cuore per questo lavoro mio e per questa responsabilità però con il club non è giusto, non è giusto perché se c'è l'esempio perfetto della professionalità sono io. Non ho mai perso una partita, non con la Roma, sto parlando di 23 anni, non ho mai perso una partita, non sono mai stato malato. Un allenamento di recupero per la gente che ha giocato, un allenamento per sei giocatori, sei giocatori che non hanno giocato, l'allenatore per non stare, però non stare con permesso della proprietà, non stare con permesso del direttore, mi sembra veramente una cosa drammatica che giustifica io stare qui parlando invece di rispondere a Angelo. Grazie Angelo, andiamo.